Eccoci qui in questo nuovo video, ennesimo incazzatura anche oggi, tanto tu Virgine, ogni partita anche sul 40-0 dovrai stare sempre con l'ansia e con il nervoso, con le bestemmie perché tanto con la Roma non finisce mai le bestemmie, porca troia, appena finita la partita stavolta l'ho vista che la facendo vedere su da sonno, però porca troia, non è possibile giocare solo un tempo e il secondo può buttarlo letteralmente a fanculo, rischiando anche le perdite tra l'altro, alla fine con la traversa grande miracolo di Olsen che dicevano che faceva schifo, io compreso, ma oggi ce la dico ha fatto davvero un miracolo, salvandoci dalla sconfitta totale, porca della puttana mignotta, è una roba che non ce se credi, è una roba che non ce se credi, porca troia, non ti ho saputo sul 2-0. Già nel primo tempo c'erano state un po' di pausette che non mi erano piaciute perché dopo il gol non giocavamo più, dopo i gol, io non lo so, ma stanno proprio nell'anno nostro, si è capito? Ovviamente si è capito, oramai si è capito che non era l'anno nostro, quindi prendiamoci l'anima in pace, con Real Madrid fammo il segno della croce perché tanto è l'unica cosa che ci può salvare onestamente vedendo come giocamo, perché sembrano Dottor Jekyll e Mr. Hyde, doppia personalità, bipolarismo, più altri aggettivi che adesso non mi vengono a mente, porca troia, ogni giorno, ogni volta, ogni partita è una bestiemia continua. qui vicino non c'è stato mai un prete vicino tra me perché tanto c'è anche la chiesa qui vicino, quindi, però, è una roba che non ce se crede, dai Gesù, portaccia la puttana, 2-0, 2-2, porca troia, ora parecchi diranno che il Chievo si deve a scanzare, che l'altro, ma il Chievo giustamente fa la parità sua, come ieri giustamente ha fatto il Palma, tanti dicono che il campionato di Serie A fa schifo perché le squadre non ti mettono il tappetino giustamente, perché da giocare tu tutti i 90 minuti invece, io dico, cacchio, perché c'hanno due squadre in campo e non una sola, cazzo, e non sfruttiamo mai le occasioni, c'è niente da fare, quando perde l'Inter, subito perdiamo o pareggiamo anche noi altri, non sfruttiamo mai l'occasione giusta. Adesso sto a rivedere le azioni, madonna, non te le credo, tu qui ti fai solo il sangue amaro, per carità, per carità, Varda. Real Madrid ce ne fa 20, se fanno così, dopo, vabbè, a Roma è strana, è impronosticabile, lo sappiamo, so da quando ero piccolo, oramai, è sempre stata così a Roma. Può essere che ti fa una schifezza di partita contro il Chievo e ti vince 3 a 0 con il Real Madrid. Io, però, so, alquanto pessimista, vedendo anche questo inizio del campionato, onestamente, non so, ottimista per niente, una fracca di gol subimo, anche se oggi non si gol, soprattutto quello di Birza, quel gol spettacolare, ecco, l'hanno fatto al vede adesso, non c'è poi quella di, e niente, perché giustamente ha fatto la sua partita, complimenti a loro, io direi, anzi, momenti vince, comunque sul 2 a 1 su Facebook ho condiviso un post, questi sono molto rognosi, attenzione, magari ho parlato ce, ce, come cazzo si dice, seccia, ho parlato sfortuna, conoscevo, conosco il Chievo, è sempre stato ostico, anche con la Juve hanno vinto solamente 3 a 2, e i momenti pareggiano, tra l'altro, anzi, i momenti vincono, su 2 a 1 addirittura, ha messo sotto anche la Juve, mi mette sotto loro, cacchio, e niente, c'è poi ancora di migliori in campo per me, Zonzi, Unda, che è davvero corso, uno dei pochi che ha corso, che ho visto correre onestamente oggi, Pellegrini, per carità, insufficiente, anche oggi, una fracca di passaggi sbagliati, per carità, non mi piace, l'altra cosa, titolari o Cristante o Pellegrini, perché entrambi fanno bestemmiare in una maniera incommensurabile, quindi siamo verdi, ecco, questo è il Giaccherini che mi mette segno 3 a 2, per loro, Miglio e Sorrentino ha fatto davvero mucchio le parate, abbonato a fare parate con noi altri, giustamente, è un mestiere suo, ma infatti non capisco cosa ci faccia uno come Sorrentino anche io, secondo me è davvero forte, e niente, anche oggi allora perdemo la voce, anche oggi bestemmiamo, e anche oggi ce la prendiamo, riccamente in quel posto, non so più che di tanto ormai, ormai è così, stanno così, e non c'è la vipia, ma alle 4 e mezzo c'è il rubio, speriamo almeno loro di fare una prestazione come Dio comanda, che si è noto qui davvero che va a spaccare qualcosa, speriamo bene, intanto stanno intervistando sti fischi, secondo me altro migliori in campo per loro, davvero non si fermava mai sto giocatore, davvero ottimo, infatti 2 a 2, come dicevo prima, migliori in campo per me, per la Roma, anche Hudson ci metto, secondo me sul 2 a 2 ha fatto un miracolo, in momenti fanno il 3 a 2, al 95esimo fu, e niente, a me pare corretto tutto, io ormai non c'ho più parole, o ci svegliamo, o sarà una stagione di inferno proprio, c'è poco ora di appuntamento, a dopo per il guppio, speriamo bene. Grazie. Grazie.